Buonasera, sono Laura Antichi. Questa è la bottiglia che ho costruito con Blender e che ho salvato in formato DAE e importato nella sim Edu3D. Si chiama Elisir, pozione magica per streghe. Direi che l'etichetta l'ho fatta abbastanza accuratamente, come la forma della bottiglia. Per quanto riguarda la texture invece della bottiglia in sé, credo di doverci lavorare per renderla più riflettente e trasparente. Questo comunque è il risultato che ho ottenuto. Grazie a tutti.